Ciao a tutti! Questo video sarà dedicato alla cura della mia pelle e ai 5 prodotti che sono adatti alla pelle secca che sto utilizzando in questo periodo e che mi piacciono particolarmente. Probabilmente nei prossimi mesi, scoprendo altri prodotti, vi farò altri video di questo tipo presentandovi altri 5 prodotti adatti a questa tipologia di pelle. Cominciamo subito, voglio parlarvi di uno dei prodotti che mi è arrivato da poco l'ho ricevuto insieme a tantissimi altri prodotti da Canvit che è un distributore italiano di diversi marchi polacchi tra cui Nakomi che conoscete ormai benissimo ma io vi voglio parlare di un prodotto in particolare di un marchio Vianek in realtà ho intenzione di fare un video dedicato a tutti i prodotti di questo brand che ho ricevuto perché i prodotti di questo brand saranno quest'anno al Cosmoprof quindi magari per tanti di voi che andranno al Cosmoprof il video può essere utile quindi sicuramente tra poco arriverà un video dedicato ma intanto vi voglio parlare di questo prodotto questa è una lozione detergente viso lenitiva con estratto di radice di consolida maggiore una lozione cremosa per la detersione del viso per pelli sensibili soggette a irritazioni allora questo è un prodotto che io utilizzo a modi di latte detergente diciamo quindi lo utilizzo come il secondo step la sera dopo essere mistruccata con l'acqua micellare oppure anche come un detergente al mattino per pulire il viso e togliere tutti i residui dei prodotti che si sono accumulati durante la notte questo prodotto mi ha fatto impazzire praticamente dal primo utilizzo lo adoro, mi ci sto trovando benissimo ha una consistenza di un latte, latte detergente però in realtà una volta lo mettete sul viso sentite proprio la differenza non è un latte detergente qualsiasi è proprio un'emulsione come dice qui sulla confezione probabilmente perché all'interno subito dopo acqua abbiamo glicerina e poi olio di cocco e poi ci sono anche altri oli vi farò vedere l'incita al vicino e infatti la presenza dell'olio di cocco rende questo prodotto e la sua consistenza estremamente piacevole da utilizzare è proprio settosa è molto morbida al tatto è davvero molto piacevole da utilizzare e da mettere sul viso mi aiuta a togliere i residui di trucco e la posso tranquillamente utilizzare sugli occhi non sento assolutamente nessun tipo di bruciore e di fastidio quindi la utilizzo su tutto il viso mi lascia la pelle morbida per niente secca effettivamente penso che per pelli sensibili perché la mia pelle ultimamente è diventata anche molto più sensibile sia un prodotto davvero molto molto valido e la straconsiglio anche alle pelli secche appunto quindi questo è uno dei prodotti di Vianek di cui assolutamente vi dovevo parlare lo rivedrete sicuramente anche nel video dedicato a questo brand poi per quanto riguarda uno step diciamo tra la detersione e poi la vera skin care tra i serie e creme vi voglio parlare di due scrub uno è uno scrub per il viso l'altro è scrub per le labbra e per quanto riguarda lo scrub viso ve ne ho già parlato in uno dei video penso l'amore a primo utilizzo ed è questo scrub illuminante di Biomarina quando arrivate al livello della secchezza della pelle come nel mio caso in questo periodo ovvero quando addirittura la pelle diventa screpolata e vedete delle pellicine è molto difficile toglierle con l'utilizzo di un peeling enzimatico per esempio ci vuole un prodotto che vada ad esfoliare la pelle in un modo più meccanico e per questo scopo trovo che questa crema questo scrub illuminante è davvero davvero fantastico all'interno troviamo delle particelle scrubbanti che sono non troppo forti ma sono molto efficaci quindi già dopo il primo utilizzo tutte le pellicine vengono tolte la pelle risulta molto più sì sicuramente anche molto più luminosa ma soprattutto molto più liscia e si vede che è pronta per essere trattata con altri prodotti ancora più performanti dopo come sieri o crema e viso quindi assolutamente se cercate un prodotto del genere io ancora una volta vi volevo consigliare questo scrub ma un altro prodotto un prodotto nuovo di cui vi voglio parlare è questo prodotto di un altro brand polacco Silveco anche questo l'ho ricevuto nel pacco da Camvit insieme ai prodotti di Vianek questo in realtà è un prodotto che io avevo già utilizzato in passato perché l'avevo acquistato in Polonia circa due anni fa se mi ricordo bene mi era piaciuto tantissimo quindi quando l'ho visto arrivare insieme ad altri prodotti in questo pacco sono rimasta davvero molto molto contenta praticamente è uno scrub per le labbra un peeling per le labbra è una forma di rossetto non è una cosa nuova perché ci sono diversi brand che propongono questo tipo di prodotto soprattutto i brand non naturali questo qua è un prodotto completamente naturale l'unica cosa non è adatto ai vegani perché all'interno troviamo anche l'anolina allora come vedete lo stick si presenta così all'interno ci sono delle microparticelle diciamo dei granuli scrabbanti di zucchero di canna all'interno troviamo diversi oli diversi burri c'è anche appunto la lanolina che permette di idratare nutrire le nostre labbra in profondità ma in più lascia questo strato protettivo assolutamente non fastidioso ma uno strato protettivo che effettivamente si sente per diverse ore e che va a proteggere le labbra dalla secchezza dal vento eccetera eccetera allo stesso tempo con questi granuli riuscite a fare un bel scrub alle labbra io quando mi ricordo lo utilizzo ogni giorno ogni sera prima di andare a letto altrimenti lo utilizzo un giorno sì un giorno no dipende lo passo direttamente dallo stick sulle labbra e poi quello che mi rimane il prodotto che rimane lo vado a massaggiare anche con il dito vado a toglierlo con l'acqua e praticamente non sento assolutamente bisogno di andare a riapplicare un altro prodotto come un balsamo labbra perché lo strato che lascia è assolutamente molto idratante ecco e sentite proprio l'idratazione che rimane sulle labbra quindi questo prodotto è diciamo due in uno e vi può tranquillamente bastare è un prodotto che assolutamente vi straconsiglio se trovate appunto questo di Silveco o se trovate un prodotto simile di qualche altro brand se avete il problema della pelle secca e delle labbra secche assolutamente super consigliato poi mi rimangono due prodotti uno di cui vi ho già parlato l'altro no magari comincerò da quello di cui vi ho già parlato ma ve ne ho parlato per uno scopo e un modo di utilizzo diverso vi voglio parlare di questo gel doppio all'acido ialuronico di Natura Equa che è praticamente finito come sapete è un prodotto che mi piace da morire lo consiglio assolutamente a tutti e a tutti i tipi di pelle io lo utilizzo ogni mattina e lo metto appunto subito dopo aver pulito la pelle e dopo aver utilizzato il tonico a modi siero appunto però devo dire che ultimamente ho cominciato ad utilizzarlo anche come viene suggerito qui sulla confezione quindi come se fosse una maschera idratante quindi vado ad applicare uno strato piuttosto spesso pesante del prodotto sulla pelle e aspetto che la maggior parte del prodotto si assorba e poi dopo quello che rimane lo vado a togliere vedo effettivamente la differenza perché la pelle risulta da subito molto più rimpolpata e c'è questo effetto lifting ovviamente essendo l'acido ialuronico ma sento anche che il livello di idratazione è molto più alto rispetto a quando lo utilizzo appunto anche ogni giorno come siero ecco e quindi se cercate proprio un boost di idratazione un'azione quasi d'urto ecco e se ce l'avete già questo prodotto a casa vi consiglio di utilizzarlo anche in questa maniera perché sono sicura che vedrete i risultati praticamente dalla prima applicazione quindi questo è diventato anche uno dei miei prodotti da utilizzare diciamo come una maschera viso e mi sta piacendo tantissimo anche in questo modo e poi l'ultimo prodotto di cui vi voglio parlare questa è una novità che mi è arrivata da Jada Distributions che è il distributore di diversi brand come Madara o Mossa questo prodotto è di Dabba ve l'ho mostrato anche su Instagram questo è un olio per il viso idratante con camomilla e borragine allora all'interno è un misto di oli quindi troviamo nei primi posti olio di jojoba olio di mandorle dolci olio appunto di borragine poi abbiamo squalane e poi altri oli diversi estratti e poi l'aroma proprio come come l'unico come l'ultimo ingrediente nell'inci allora per quanto riguarda questo prodotto l'amore tra di noi è nato dalla prima applicazione quando l'ho sentito sul mio viso sapevo che era il prodotto di cui aveva bisogno la mia pelle in queste settimane in questi mesi allora la confezione interna si presenta così sono 4 mesi di Pau è certificato EcoCert e qui abbiamo 30 ml di prodotto ha una consistenza di un olio praticamente e come vedete ha la la sua confezione con il contagocce io come lo utilizzo lo utilizzo due volte al giorno sia al mattino che la sera a volte lo utilizzo da solo dopo per esempio al mattino dopo il siero con l'acido ialuronico e prima di mettere la crema oppure vado a mescolarlo direttamente con la mia crema viso dipende se ne sento più bisogno o meno ecco quando sento che la mia pelle è particolarmente secca ha bisogno di tantissima idratazione e nutrimento vado ad utilizzarlo da solo con qualche goccia in più dopodiché vado ad utilizzare la crema l'unica cosa che magari potrebbe non piacere di questo prodotto e la sua profumazione perché è una profumazione piuttosto forte e sa tanto di erbe quindi si sentite sicuramente la camomilla ma si sentono anche altri estratti è un profumo molto naturale che a me personalmente piace tanto però effettivamente potrebbe magari non piacere però non è neanche un profumo che è duri tantissimo una volta applicato sul viso quindi insomma ci sta ecco a me personalmente piace tanto ma soprattutto mi piace tantissimo l'effetto che mi lascia sulla pelle la pelle risulta liscissima molto morbida mi toglie subito la sensazione di secchezza quando la sento la pelle risulta appunto nutrita idratata sento che è ben protetta anche dal freddo e sì mi piace mi piace davvero tantissimo in più probabilmente essendo a base di olio di jojoba è per quello che non lo sento troppo pesante allo stesso tempo per la mia pelle quindi è un è un olio che una volta messo sul viso se avete la pelle secca sentite che proprio va ad assorbirsi subito e vi lascia questo strato molto delicato questa pellicola diciamo protettiva però non sentite la pesantezza dell'olio sul viso assolutamente no è un prodotto fantastico se avete la possibilità di provarlo ve lo stra stra consiglio io mi ci sto trovando davvero davvero benissimo allora questi erano i miei prodotti adatti alla pelle secca che sto utilizzando in questo periodo spero che il video vi sia stato utile se voi avete qualche prodotto per la pelle secca che mi volete consigliare scrivete tutto sotto nei commenti e noi ci vediamo la settimana prossima con il prossimo video ciao ciao